Il commissario Montalbano, un bel applauso! Un ultimo appassionante episodio Qualciduno ci ha sparato, ho un colpo in testa Lei non può aspettare che io scrivo il mio rapporto, no? Un ultimo intricato caso Tu l'hai minacciato di morte Non sono stato Questa faccenda è chiara come il sole La mia o me convince, va bene? Per maloso come un picciritto L'ultimo appuntamento con il giovane Montalbano Di sicuro l'uomo che ha scritto quei biglietti vuole fare qualcosa di terribile I fanatici religiosi sono capaci di qualunque cosa Sette lunedì Dobbiamo rimandare la vacanza Adesso mi organizzo e vado da qualche parte Ma come da sola? Non devo certo chiedere il permesso a te, va bene? E chiude, e chiude!